Professore Apolito, è stata una brutta pagina quella di ieri che sicuramente resterà nella storia di questa città. Qual è la sua opinione? Intanto sfatiamo un mito che la festa di San Matteo sia un evento religioso o prevalentemente religioso. Non lo è, lo abbiamo visto. Di spirito della religione cattolica, quella del Papa attuale, di Papa Francesco, c'era nulla. Lo spirito evangelico della pace, della fratellanza, della concordia non c'era. C'era lo spirito di divisione, lo spirito della forza. Dunque San Matteo è un evento importante ma non è un evento religioso o almeno non è un evento prevalentemente religioso. È un evento innanzitutto storico, civile, legato alla memoria di questa città, all'identità di questa città e quindi da questo punto di vista non può essere qualcosa stabilito a tavolino che funziona per ordini e decreti. Deve essere qualcosa che riguarda tanti soggetti, tra cui anche il Vescovo, ma non è il Vescovo l'unico soggetto implicato. Allora che cos'è San Matteo? San Matteo è un grandissimo momento in cui questa città si riconosce unita e da questo punto di vista bisogna stare molto attenti. Non si può giocare come un elefante in una cristalleria, bisogna andare delicati con questi eventi perché quando salta l'unico elemento di coesione di questa città può saltare la coesione intera di questa città, bisogna essere prudenti e allora c'è un dovere di comunicazione. Cioè bisogna avere la capacità di comunicare con tutti i soggetti della politica, della società civile e dei portatori della tradizione. D'altra parte San Matteo senza le statue e senza i portatori sarebbe un'altra cosa. Diciamocelo chiaramente, ci può piacere o non piacere, ma quello è. Allora se quello è il dialogo deve essere innanzitutto con loro. Qui non si tratta di prendere parte per l'uno o per l'altro. Anche se così sta accadendo adesso, no? Ed è sbagliatissimo perché prendere parte, innanzitutto allontana sempre di più San Matteo dalla sua dimensione religiosa, ovviamente. Perché lo spirito evangelico della fratellanza dovrebbe implicare ben altri comportamenti che piuttosto quelli che ho sentito anche un po'. Noi siamo salernitani e gli altri non sono salernitani, ma lo spirito evangelico non divide i salernitani dai napoletani o dagli ungheresi o da non so a chi. Sono tutti affratellati, quindi il richiamo a questo spirito sarebbe fondamentale. D'altra parte però deve fare anche riflettere l'autorità ecclesiastica. Se siamo arrivati a questo punto è perché probabilmente un eccesso di diplomazia fa immaginare sempre che la religione possa rinforzarsi attraverso la pura pratica rituale. Cioè basta andare in chiesa e fare la croce, basta andare in chiesa e seguire la messa, basta andare a San Matteo perché lo spirito religioso rimanga alto. No, non è così. Lo abbiamo visto ieri sera. Allora, adesso i cocci sono a terra, bisogna ricomporli in che modo? Un dialogo. Un dialogo in cui devono intervenire tutti, tutti i soggetti istituzionali e non istituzionali. A cominciare dall'autorità religiosa ma non solo. Qui ci occorre anche l'autorità politica e civile che prenda la sua posizione. Non sono con questi e contro di questi. No, nel dire adesso che è successo e i cocci sono a terra, tentiamo di capire qual è il percorso che può rifondare il prossimo San Matteo di un anno. D'altra parte, io capisco anche adesso l'atteggiamento di delusione del Vescovo, a parte il fatto che faccio una piccola battuta. Magari lui adesso ha avvertito un po' lo spirito del martirio, quando ieri è stato fatto oggetto di tanti fischi. Però attenzione, lui lo sa meglio di me. E queste tradizioni sono nate per opera della Chiesa nei secoli precedenti. Quando la Chiesa aveva bisogno di confermare il suo potere temporale, utilizzava queste tradizioni come forma di mantenimento. Poi la Chiesa nel Novecento, la Chiesa del Dopoconcilio, la Chiesa di questo Papa è cambiata molto. Ma vediamo qual è la difficoltà. Andiamo a guardare qual è la difficoltà della Chiesa, per esempio in Calabria, o in Sicilia, o nel napoletano, a staccarsi da quella mentalità che mette insieme Camorra, ondrancheta e religione. La Chiesa deve farsi carico della sua storia. Non basta dire abbiamo sbagliato, chiediamo scusa, chiediamo perdono. Bisogna pagarne un po' le conseguenze. Le conseguenze sono con questa città, bisogna dialogare, a partire dal terreno simbolico di questa città. Non dal terreno simbolico astratto della volontà ecclesiastica della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Ma cos'è questa roba? No, lo sappiamo che cos'è. Però non funziona in questa città. In questa città palpita per altre cose che la CEI. Palpita perché quella tradizione deve essere fatta in quel modo, l'applauso deve essere fatto in quel modo. palpita per una serie di cose che possono anche, come dire, se noi ci mettiamo dal punto di vista intellettuale, sofisticato, diciamo queste cose di ignorante. No, no, sono grandi valori. Sono i grandi valori che tengono coesa questa città. Il compito delle autorità istituzionali, quindi politiche e religiose, è che a partire da questi valori, non negando questi valori, a partire da questi valori, dietro cui, dietro la tradizione, c'è la coesione, c'è il sentirsi partecipi di una stessa realtà. A partire da questi valori si può anche sperare, nel prossimo futuro, nelle prossime generazioni, di arrivare a un sentimento religioso più autentico, più spirituale, ma non dal giorno alla mattina, non dall'oggi al domani. A proposito di coesione, può anche essere l'ultima cosa che le chiedo, che la gente non ne può più di regole imposte dall'alto, che non riesce a comprendere, per cui dalla politica, alle amministrazioni, alla Chiesa, si sente defraudata di quel poco che gli è rimasto, per cui ieri quella mancata adesione alla benedizione dell'Arcivescovo, cioè nessuno ha fatto il segno della croce, sembrava, anzi è parso a tutti un ammurdinamento. Assolutamente sì, molto grave, molto grave, perché evidentemente il segno della croce viene ritenuto non un gesto del devoto nei confronti del cielo, di Dio, ma un gesto di rispetto dell'autorità, terrena. E allora c'è un problema, un'interrogazione che deve porsi il Vescovo. Se per fare sciopero il popolo di Dio, cioè i devoti, non fa la croce come se facesse a me uno sfregio, e non ha il senso della religione. E qui questa religione è andata a farsi benedire, è diventata un'altra cosa. E c'è un atto di pentimento, una riflessione che l'autorità ecclesiastica deve fare. E poi certo, lei ha perfettamente ragione, perché non è possibile, anche sul campo della religione, a fronte di questo Papa, di cui vediamo bene l'eco mondiale, nel suo mettersi accanto agli altri, di fronte agli altri, non sopra agli altri, non si può pensare che un'imposizione dall'alto, come se fosse l'Europa per i contadini, e si fa così e basta. Oppure il governo nazionale per i cittadini. Ma no, ma no, un padre spirituale. Io però non voglio gettare la croce addosso al Vescovo. Lui fa un compito duro, perché non è facile essere Vescovo di una città come questa. Ma oggi non è facile essere Vescovo davanti a questi grandissimi cambiamenti. Lo dico con un grande senso di solidarietà nei suoi confronti. Io mi sono sentito molto vicino a lui quando ieri era oggetto di quei fischi. Però chi ha quel compito così alto deve anche rendersi conto che gioca con una realtà delicatissima, sulla quale deve intervenire con spirito di sacrificio, accettazione, ma anche una grande capacità di comunicazione. D'altra parte questo Papa e i Papi precedenti ce l'hanno insegnato. Ancora si ricorda Papa Voitiva perché ha avuto una capacità di comunicazione che spaccava le televisioni, spaccava... E questo è un Papa altrettanto. Altre figure istituzionali devono prendere lezione da lui. Per il resto io penso che questa città, adesso tutta, anche i portatori non devono sentirsi vittoriosi, non hanno vinto. Non hanno vinto. Hanno perso pure loro. Abbiamo perso tutti. Perché l'immagine di questa città, caso mai dovesse transitare sulle pagine dei giornali nazionali, come facciamo a spiegare ad un abitante di Vigevano o di Canicattì, o non so, di Londra o di New York, per esempio, che il litigio è cominciato quando i portatori sono arrivati al Duomo e hanno visto che le statue erano già fuori e non stavano dentro. Sembra una roba incredibile. Per noi è piena di senso che viviamo questa realtà, ma per chi sta fuori? Si chiede, ma sono ammattiti questi salernitani? Allora ne tenga ben conto, anche il sindaco di Luca, ne tenga ben conto di questa cosa. Non è una bella immagine che esce fuori di Salerno se si litiga con il vescovo perché le statue stanno fuori invece che dentro. E poi tutto il resto che ne consegue. Siamo tutti che abbiamo perso qualcosa, anche i portatori, anche le persone che io amo, che ammiro tantissimo, che conosco personalmente, ma pure loro hanno perso. Abbiamo perso tutti. Nessuno si può mettere adesso a dire io l'avevo detto, l'avevo capito o cose di questo genere. Oppure io mi sento di aver vinto e vado avanti. No, non hai vinto. Magari hai vinto la battaglia provvisoria, ma guarda che le cose che possono succedere dopo sono terribili.